Ciao ragazzi, allora questo è il momento per farvi vedere l'outfit di stasera, è sabato sera e sto uscendo e vi faccio vedere prima il trucco, che è questo, così, l'eyeliner di Kiko e poi due ombretti così, un duellino e un marroncino, intanto si sta scaricando la batteria, sono tre impassate di mascara, e l'internamento è una matita color carne, poi illuminante, non ho blush, ho questo bel rossetto di Kiko che è di questa linea qui, che è bellissimo secondo me, ci sta pure bene nel complesso, anche perché riprende la maglietta, questo bellissimo fucsia, questo è il trucco appunto, e niente, è poi solo un po' di terra, questo anello è quello che mi avete visto nell'altro outfit, le unghie lasciatele stare che sono tutte rovinate, delle perline normalissime, non capisco se sta continuando a registrare, comunque questa collana, poi questa maglia, poi ho delle leggings, e guardate la spazzettina, e queste scarpine qui, le scarpine, niente ragazzi, devo staccare perché il video si sta scaricando, ci sentiamo presto, e un bacio, ciao!